Rapsodia B con Aronchini con il 4, Lemica di Azzurra e Federico Esposito con il 5, Reda Lod e Salvatore Borvino con il 6, Rufina Spin e Antonio Storti. Gioco orientato nei confronti di Reverle Bar che al momento ha una quota di 1,49 quando mancano 100 metri allo stacco. Reverle Bar che si è avviata con prudenza. Macchina che va per lasciare i concorrenti. A comando prova a portarsi Rimica di Azzurra nei confronti di Rebelli RB. Rufina Spin che rimane per linee esterne, potrebbe trovare la terza posizione alla corda, vedremo se sarà così, intanto i 200 in 14,5. Davanti sempre Rimica di Azzurra, Rufina Spin che si è messa dietro Rebeli RB, Reverle Bar che viene via per linee esterne al completamento della piegata. Il 400 in 31 con Reverle Bar che passa davanti alle tribune e si trova ad essere la leader nei confronti di Rimica di Azzurra e Rebelli RB. 600 di gara in 45,7. Reverle Bar alla comando, Rimica di Azzurra che insegue, Rebellia poi in terza posizione a precedere Rufina Spin, poi il 3 Raps di Abil, 5 Re da Lod. Si arriva così al paletto di metà gara in 1-1-4 per Reverle Bar che continua a condurre, gruppo in fila indiana con ritmo abbastanza sollecito imposto dalla battistrada che giunge al chilometro. Nell'ordine dell'1-16-8, 15-4 di frazione, si va ora di fronte con ancora Reverle Bar alla comando, Rimica di Azzurra che insegue, poi Rebellia poi Rufina. I tre quarti di miglio in 1-31 scarsi, 14-2 per quel che riguarda il paletto, con sempre Reverle Bar a leader, una abbondante di margine nei confronti di Rimica di Azzurra che prova a scoprirsi all'imbocco dell'addirittura di arrivo, Rimica di Azzurra che ci prova, va all'attacco di Reverle Bar, rimane più indietro Rebellia, Reverle Bar per il momento in controllo su Rimica che è lì, i tre rimangono cristallizzati, Reverle Bar che viene a vincere nei confronti di Rimica di Azzurra e Rebellia, LB. 1-59-4 per chi vince, 28-4 a chiudere, per Reverle Bar, Enrico Bellella guida, Catello, Saveresa al treni, colori della scuderia, Stecca, 1-14-5 la media al chilometro, successo tutto sommato agevole, tranquillo, passaggio ai 600 metri e poi gestione lungo tutto il chilometro finale, può essere solamente seconda Rimica di Azzurra, precedere Rebellia LB241, l'ordine di arrivo di questa quarta da Capannella. Grazie a tutti.